Un rappresentante per ogni città della Batta è così composto il nuovo coordinamento provinciale Barletta-Andrea Trani di Direzione Italia, che fa capo a Raffaele Fitto. Dopo la fase regionale che ha individuato in Francesco Ventola il coordinatore regionale del partito, ad Andria è stato presentato alla stampa dal coordinatore provinciale Benedetto Fucci il gruppo di lavoro sul territorio Fantino, composto esattamente da Sabino Miccoli, Suandria, Gigi Antonucci a Barletta, Michele Scagliarini a Trani, Roberto di Scicciola a Canosa di Puglia, Sante Scaringi a Bicelli e Giustino Teresco a Trinitapoli, Agnello Valente a San Ferdinando di Puglia, Raffaele Rutigliano a Margherita di Savoglia, Luigi Roccotelli a Minervino Murgio e Nicola Di Tullio a Spinazzola. Dopo le recenti amministrative addetto Fucci da più parti si è cercato di far passare Direzione Italia come principale responsabile delle sconfitte del centrodestra in Puglia. Invece ogni partito si misura con le proprie forze anche in relazione agli eventuali alleati di coalizione. Un dato questo ripreso dal coordinatore regionale Ventola che ha aggiunto di non farsi affatto intimorire dal fatto che altri potenziali alleati siano mediaticamente più considerati. Le partite elettorali addetto Ventola si giocano e si vincono sui territori e su questo terreno a giudicare da quello che vedo e sento tutti i giorni sia come consigliere regionale che come coordinatore del partito abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra. Grazie.